Ciao ragazzi, buongiorno sono io, io sono Loggy, e voglio gustarvi un nuovo bug. Il bug di oggi vi mostrerà come avere il nuovo Snowwall Launch, cioè il lanciatore di palle di neve, o una cosa del genere. Per farlo vi servirà la galleria forziere, che è questa che potete trovare in modalità creativa, dispositivi, galleria forziere. E poi, dopo aver la galleria forziere, semplicemente dovete lanciarla e prendere la cesta leggendaria. Quindi, dopo aver preso la cesta leggendaria, semplicemente la continuate a mettere. Mi raccomando, non troppo vicino, perché sennò il loot si potrebbe confondere e voi non potrete vedere lo Snowball Launcher. Quindi, lo cercate. Ok, come potete dire io l'ho trovato adesso, il lanciatore è lanciapalle di neve, però è epico. Voi, cercando ancora, potete anche trovare sia quello leggendario, che è epico, come ce l'ho io adesso. Mi dispiace se oggi, come nel scorso video non ce l'ha, ma purtroppo è impegnata in questi giorni, ma non vi preoccupate, ritornerà nei prossimi video. Come potete dire, se provate a metterla in una vending machine, vi darà che potete metterla, perché potete. E, come potete vedere, potete metterlo in tutte le parti, come sempre. Ok ragazzi, spero di aver questo video piaciuto. Se l'hai commentato, se l'hai già fatto, da Loki e purtroppo da Ele non ancora. È tutto? Ciao a tutti!